La trasparenza ha un grande valore. Non si tratta solo di uno strumento obbligatorio che permette di creare ordine nella pubblica amministrazione dettando regole. Essere trasparenti significa avere massima apertura alla valutazione da parte di chi è diretto beneficiario dei servizi offerti attraverso la totale accessibilità alle informazioni sulle risorse economiche e sulle spese effettuate, per mezzo della raccolta dei dati sulla funzionalità di uffici e servizi, sulla gestione e valutazione del personale, così come sulla rispondenza dei servizi erogati alle esigenze del territorio. Tra gli adempimenti che la Camera di Commercio deve assolvere a cadenza annuale, la giornata della trasparenza dove avviene un confronto e uno scambio di informazioni proficuo con le associazioni di categoria e gli altri stakeholders. Un momento di confronto, di condivisione e naturalmente noi accettiamo anche suggerimenti e consigli da parte di coloro con i quali ci confrontiamo, perché in materia di trasparenza abbiamo fatto, ci siamo adeguati alle normative che sono state numerose in questi ultimi anni, soprattutto appunto tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013. Da obbligo di legge a strumento utile per migliorare. Far sì che i cittadini abbiano accesso diretto a più informazioni possibili, infatti, permette un controllo mirato e più efficace sull'impiego delle risorse. Ancora molto c'è da fare perché per poter essere maggiormente trasparenti dobbiamo veramente far sì che i nostri interlocutori, che i cittadini possano avere da noi tutte le informazioni, tutti i dati di cui hanno bisogno. Anche perché da parte dei cittadini è bene che ci sia nei confronti delle pubbliche amministrazioni un'attività di controllo, intanto di verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte delle pubbliche amministrazioni e dello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite. E poi anche un controllo sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al raggiungimento delle funzioni istituzionali. Fornire servizi e cercare il massimo soddisfacimento possibile dei bisogni dei cittadini. Con questi obiettivi la Camera di Commercio arriva al primo anno di realizzazione dell'indagine sulla trasparenza con una performance tutto sommato buona, considerato il clima di grave crisi in cui versa tutto il territorio. Occorre insistere maggiormente sulla misurazione dei veri impatti delle strategie dell'ente. Un obiettivo perseguito dalla Camera di Commercio non si misura esclusivamente in termini di risultato raggiunto oppure no. Si dovrebbe misurare in termini di outcome, cioè di effetto generato sul territorio, sulle imprese, sul sistema degli stakeholder. All'interno del sistema della performance adottato dalla Camera di Firenze, questo è uno dei margini di miglioramento che a mio giudizio deve essere assolutamente perseguito, assieme alla misurazione anche della qualità dei servizi resi e quindi della customer satisfaction, vale a dire la misurazione della qualità percepita dall'utente. Dal punto di vista dei miglioramenti e dei risultati raggiunti, sicuramente la capacità di aver mantenuto un elevato livello di servizi resi nonostante le gravi difficoltà economiche che caratterizzano non solo il mondo privato ma anche la pubblica amministrazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.